Ciao, lo sviluppo di Blender è continuo e quindi escono sempre delle novità, però le versioni, quelle considerate diciamo stabili, che rimangono fisse per un po' di tempo, sono le versioni che vengono chiamate LTS. L'ultima versione LTS è la 2.83. La prossima, la 2.93, sta per uscire. L'ultimo anno ha visto diverse modifiche a Grease Pencil. Grease Pencil è questa funzione che cliccando su 2D Animation all'avvio di Blender si può usare fin da subito in maniera semplicissima. Se siete dei disegnatori vi troverete a casa perché avete un foglio bianco e potete immediatamente con la vostra penna cominciare a disegnare come in un normale programma di disegno. Io ho fatto un intero corso di Grease Pencil, probabilmente sarà anche ora di aggiornare il corso e ricominciarlo con questa nuova versione di Blender, quando uscirà. Nel frattempo volevo approfittare di fare questo video, per chi ancora non conoscesse Grease Pencil, quali sono i motivi per i quali potrebbe essere interessante imparare questo strumento anche al di là dell'uso di Blender. Come ho detto Grease Pencil è uno strumento di disegno per cui semplicemente si può trascinare e disegnare e ci sono anche strumenti diversi, quindi mentre questa è una matita se io mi sposto su Ink Pen ecco che ho a disposizione una penna per inchiostrare. Posso decidere cliccando su questo tasto e cliccando poi qui di cambiare colore e di scrivere con uno qualsiasi di questi colori, colore dalla palette oppure colore che mi pesco automaticamente qui e posso anche con questo più aggiungere alla palette e continuare a usare. Quindi esattamente come in un programma di disegno normale, questi sono degli strumenti base, però ci sono anche delle possibilità di trasformarli in pennelli anche molto più elaborati. È molto facile cancellare, basta premere il tasto Control e posso cancellare quello che ho scritto. Se premo la B posso cancellare interi pezzi di disegno, quindi premo B e trascino un rettangolo e viene cancellato. Posso ricolorare parti di disegno già fatte, quindi con questo strumento e scegliendo un altro colore posso passare sopra il disegno già fatto e cambiare di colore. Sembrano cose normalissime per un normale programma di disegno, ma qual è la specialità di Blender? Che Blender è un programma 3D e quindi questo disegno se io mi sposto scopro che vive in uno spazio 3D ed è quella la sua principale caratteristica perché posso disegnare nello spazio. In questo momento sto disegnando, qui vedete front, sto disegnando sempre su questo piano, non importa se sono inclinato, come vedete disegna sempre lì. Ma io posso decidere di disegnare in base alla vista, per esempio, magari cambio colore e ora se disegno, quello che disegno si allunga nello spazio in altre direzioni. E ovviamente spostando l'inquadratura posso andare a inquadrarlo da altre parti. Questo è già un buon motivo per imparare questo programma. Essendomi messo dall'alto potrei disegnare una mappa di quello che intendo fare del mio mondo. Magari qua c'è una costa con una spiaggia, questo è appunto un pezzo di città, un altro pezzo, qui magari ci può essere una collina. Quindi questa appunto è la strada, disegno un po' quello che credo di dover mettere e poi ovviamente ho anche i livelli, come in Photoshop, per cui posso creare un nuovo livello. Il livello sottostante con le linee posso renderlo più trasparente. E sul livello sopra disegnare con tutt'altro colore, fare davvero le cose che intendo disegnare, un po' di foresta con il colore della spiaggia. Posso ingrandire il pennello ovviamente, andare a disegnare qui la spiaggia. Adesso ovviamente io vi sto solo facendo un esempio. Ma questo disegno è 3D. Vedete che il cursore è molto utile a posizionare le cose nello spazio. Quindi se io metto il mio cursore qui e dico che voglio disegnare dove si trova il cursore, cambio di nuovo colore e adesso io qua disegno dove si trova il cursore. E quindi se disegno qualcosa qui, viene disegnato in quella posizione, nella posizione del cursore. Magari vi metto di profilo. È più facile disegnare in questo modo. Poi torno dall'alto, sposto il cursore da un'altra parte e torno di profilo e aggiungo degli altri elementi. E vedete sto disegnando in uno spazio tridimensionale. Posso anche fare in modo di posizionarmi dove il segno è già stato fatto. E quindi per esempio se mi metto qui e parto da questo segno che è già stato disegnato, come vedete si appiccica dove il segno già esiste. In questo momento va ad appiccicarsi da molte parti, ma io posso dire che non mi interessa che si appiccichi sempre, ma che si appiccichi solo nel posto dove sta il primo punto. Ed ecco così quindi che posso più facilmente realizzare dei disegni nello spazio senza preoccuparmi adesso, come facevo prima, del posizionamento del cursore. Perché ormai ho già delle cose nello spazio e quindi diventa molto più facile posizionare le cose in questo modo. E vedete, quando mi sposto ho sempre a disposizione la prospettiva. E quindi in qualsiasi momento posso mettere la mia visuale qui e ho a disposizione un disegno, magari lo esporto e continuo in un programma di grafica diverso se preferisco. Però è molto più facile gestire la prospettiva. È disegnato una volta per tutte, è uno schizzo, ottengo uno spazio tridimensionale. Può essere molto utile per esempio per degli storyboard. Per esempio creo un nuovo oggetto e lo andrò a disegnare, anche questo, un colore rosso. Mi posiziono di nuovo dall'alto, disegno dove si trova il cursore, posiziono il cursore qui e disegno qui, per esempio, una macchinina. Abbiamo visto che posso mettermi di profilo e continuarla. Comincio ad assumere un minimo di spessore, certo, ma è per darvi l'idea. Posso comunque spostarlo facilmente e quindi dargli altre posizioni. Rimane coerente come dimensione e come tutto nella prospettiva. Posso trasformarlo in un'animazione. Quindi potrei dire che la macchinina si trova qui e dopo, che 100 fotogrammi dopo, la macchinina si trova qui. Visualizzare la mia animazione e la macchina si sposta. Oppure potrebbe non essere un'animazione ma potrebbe essere uno storyboard. Faccio la prima inquadratura dello storyboard e faccio una foto a quello che ho inquadrato. Sposto la macchina, vado da un'altra parte e inquadro la scena da un altro lato e faccio una nuova fotografia e salvo quest'altro. Quindi posso in questo modo realizzare molto facilmente degli storyboard. Disegnare in 3D può essere molto comodo. Posso usare delle cose come un mirror e non sono obbligato a limitarmi ai disegni a mano libera. Posso anche realizzare dei disegni con degli strumenti più tecnici. Posso anche modificarlo. Posso selezionarne dei pezzi e facilmente duplicarli, per esempio, riduplicarli in blocco e quindi cominciare a costruire dei disegni molto più complessi grazie a delle tecniche di questo tipo. E anche se io ho disegnato nella posizione facile, questa qui da davanti, quando mi sposto ho il mio oggetto in prospettiva, anche con elementi complessi come appunto dei cerchi o degli archi. Esistono anche altre possibilità come appunto per esempio un array in varie direzioni. Posso far diventare il mio disegno molto complesso a partire anche solo da pochi segni e avere quindi anche facilmente a disposizione appunto uno schizzo iniziale in cui la prospettiva è garantita e cambiare la quantità di prospettiva. Blender poi è un programma di editing 3D molto potente, permette di fare cose anche complesse e da questo punto di vista Grease Pencil può essere utile perché se ho un po' di mano con Blender, una volta costruito il mio oggetto grazie a Grease Pencil posso facilmente disegnarci sopra dei dettagli che magari a voler modellare ci avrei messo molto più tempo e tra l'altro questi dettagli sono in 3D. So che spostando la mia visualizzazione potrò continuare ad averli in prospettiva e quindi posso ottenere diverse inquadrature per esempio appunto di un oggetto complesso come un mezzo di trasporto o qualcosa del genere. È un uso molto interessante se già avete un po' di dimestichezza con Blender ma funziona anche importando un oggetto che proviene da un altro programma 3D ad esempio. Tra l'altro i disegni realizzati in questo modo possono essere anche trasformati in veri e propri elementi tridimensionali che possono quindi anche gettare ombre e diventare parte effettiva del nostro oggetto. Da questo punto di vista Grease Pencil può essere usato anche come uno strumento per creare degli schizzi che possono poi fare da base per lo scalping. Una volta realizzato un disegno anche velocemente in Grease Pencil è possibile convertirlo in oggetto tridimensionale e proseguire la modellazione tradizionale per esempio convertendolo in una mesh adatta allo scalping e proseguendo con i classici tool di scalping disponibili già all'interno di Blender. Spero quindi di avervi dato un paio di motivi per i quali potrebbe essere interessante imparare questo nuovo strumento di disegno in 3D e magari inserirlo all'interno del vostro flusso di lavoro sia che siate dei disegnatori tradizionali che siate dei modellatori 3D che vogliono approcciarsi a uno strumento diverso che non si trova in altri programmi. Ho voluto quindi fare questo riassuntone diciamo dei motivi per i quali mi piace Grease Pencil e trovo che sia interessante. Spero di trovarvi su questo canale. Nel momento in cui ricomincerò il mio corso magari potete cominciare dall'inizio se non avete seguito il precedente e quindi imparare fin da subito tutte le funzioni che ci sono nuove nella versione di Blender che sta per arrivare. Grazie mille e ciao!